Sabato 11 novembre qua nella palestra faremo uno stage dedicato esclusivamente al pugilato dove il relatore sarà Armando Bellotti. Armando Bellotti è entrato a far parte del nostro staff tecnico della Boxing Class. Terrà tre ore di lezione dalle 15 alle 18 dove ci farà vedere diverse tecniche per quanto riguarda lo sparring condizionato e l'analisi dello sparring non condizionato soprattutto facendo perno sulle sue grandi esperienze sia da pugile direttante dove ha disputato nel direttantismo 100 match e anche professionistico visto che ha disputato 16 match da professionista e anche come tecnico a livello internazionale dove ha affiancato tecnici di rilievo nel Centro America a Panama oltre ad avere insegnato anche in altre palestre in campo internazionale. Inoltre Armando Bellotti sarà presente nella nostra palestra come insegnante di ruolo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 18 dove svilupperà un allenamento dedicato esclusivamente al pugilato Boxing Class La Spezia è la sede secondaria della Griffo Box Rapallo per quanto riguarda il pugilato siamo appunto affiliati alla Federazione Pugilistica Italiana tramite la Griffo Box Rapallo quindi io rinnovo l'invito a tutti gli appassionati, i praticanti venirci a trovare anche in occasione dello stage. Buonasera a tutti, sono Armando Bellotti, di fatto sono spezzino quindi sono un figlio della nostra città. Ho iniziato tanto tempo fa alla vecchia gloriosa Virtus di La Spezia poi all'età di 20 anni sono emigrato a Rimini per ragioni sportive e cercavo di qualche sogno di gloria. Finita la carriera agonistica, quella sportiva, ho deciso di fare il tecnico di imparare bene a fare il pugilato a livello di insegnante. Ho praticato prima nella Rimini, insegnando a Rimini e Riccione e poi ho fatto un'esperienza straordinaria andandomi a allenare e imparare ad allenare a Panama. Panama è una città straordinaria dove la box è una religione, è un po' come il calcio in Brasile e per forza di cose non puoi non imparare quando in una palestra all'incirca grande come questa in zona equatoriale ai 26 pugili professionisti di cui 13 campioni del mondo attuali che si sono poi confermati nel corso degli anni. Mi sono sentito con Andrea che è un amico, siamo cresciuti assieme, ci conosciamo dagli anni 90, mi ha invitato a Spezia, abbiamo preso un aperitivo sul nostro Golfo dei Poeti, ci siamo raccontati il nostro passato e abbiamo provato a mettere le basi per un futuro. Con Andrea abbiamo vagliato un progetto che inizierà a novembre prossimo, ci saranno degli stage, ci saranno degli eventi, degli appuntamenti dove io dirigerò la sezione box per quanto riguarda il palasporto di Spezia.